aia non sono stato io buonasera sen pavor buonasera ma il video è iniziato da due secondi e abbiamo già dei simpatici rompiscatole no sei tu questo no dimenticavo i poteri io no dimenticavo dei poteri il poliziotto si ammazzerà io sto sparando il poliziotto ma io l'avevo già fatto fuori il poliziotto possiamo andare a comprare delle munizioni visto che le abbiamo sprecate in maniera risibile caro sempre non sparare lasciala stare lasciala vivere allora vediamo di capire che è dall'anno scorso che che manchiamo all'appello caro sen pavor non so se te lo ricordi veramente sai che non me lo ricordo quindi è probabile che è un po che forse non dall'anno scorso ma tre settimane che non pubblichiamo alcunché di saints row va bene allora facciamo l'appello sen pavor presente loco valpurgio loco valpurgio tutti i nomignoli che ho per spuggire alla guardia di finanza succatore presente ah vedi che rispondi allora presentissimo che burlone dunque allora il giuramento non l'abbiamo finito ci manca soltanto ruba l'autodati quindi direi di fare il giuramento dove stiamo? pensi che forse quelli vestiti di viola erano i nostri alleati e tu li hai schiacciati come fossero delle pe... dove stai andando? a rompere l'acqua bene ottimo e in genera... bene altro morto bambini non guardate non guardate bambini se siete 17 anni non guardate e capite che non si spara dal finestrino qualcuno di fuori se siete 18 più staccatevi un attimo da you porn che qua è più divertente c'è più adrenalina che scorre a fiumi 18 più guarda che io porno e ora lo fanno... lo guardano già i bambini di 5 anni guarda in mezzo guarda... no bravo... bravo... ti direi proprio di no sai questo è da ritiro della patente forse è anche davanti perchè vedo che... stanno sparando da... perchè hai fatto un frontale? perchè c'era un nomino che volevo schiacciare ah bene... insomma qua guarda questo pirla che mi fa... ma porca... è colpa del pirla col taxi allora dobbiamo rubare questa auto quale? questa questa che è fino a si è cicata bene sai che ridendo e scherzando abbiamo... no ma cosa stai a cercare di far esplodere? no ma no l'ho ribaltata perchè altrimenti non si riusciva a salire sali su ma se la consegneremo così secondo me ci mandano affanculo tu dici detto così vabbè noi l'abbiamo trovata così gli diciamo no 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 l'acqua non sta no 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 ho sbagliato va bene è sempre un piacere e poi mi... e poi... questa è un'altra macchina fermo fermo scendi scendi dov'è? posso scendere? questo sali su questo questa è più bella però eh sì mettiti a rovinare anche questa l'ho trovata dal concessionario che curva wow dove 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 guarda che salto 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 bello aia aia frontale frontale moto camion immondizia camion dai che si rovina la fiancata che poi guarda cos'era quel cos'era e abbiamo fatto solo un piacere andare addosso abbiamo solo migliorato un po come dare un pugno sulla giochellini esatto non so che tipo di battuta sia ma ci stava sicuramente no 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 cosa fai perché queste stavo ballando di strade hai anche sbrato strada tra l'altro arrivati meno male ce l'abbiamo fatta vuoi dire il giuramento deve tornare a informare matt chi? matt e chi è? matt non è kingzie no è matt è uno di quelli che ti trombi quando vai in navicella penso dove sei? no io ero un attimo a vedere una cosa arancione che brillava scusa mi arrivo ma porca tana non ti avevo visto ma porca era bellissima sta macchina cosa è sta roba? avevo l'abbiglio scusa le mie cattiverie cos'è questa roba? è l'auto moscovita ma no sono anche sceso ma perché? dai che ci sparano addosso sempre dai che ci sparano addosso eh ho capito eh sono sceso ho sbagliato passante dai che ci sparano addosso moriamo tutti no mi punta a destra siamo senza una ruota è vero no no è leggermente bucata ma te la danno così e se te vado al concessionario questa automobile te la vendono così è un optional si certo fa anche le scintille infatti l'optional sono le scintille a mosca ci accendono le sigarette attraverso questo optional delle scintille c'è chi ha l'accendi sigare elettronico c'è chi ha la macchina che fa le scintille c'è chi ha l'accendi sigari ruotante così è più bella è anche il colore scaccia fighe che ha sempre il suo dovere ma non sono scaccia fighe perché noi siamo su non può essere scaccia fighe se che fosse ragione noi siamo fighe se la cosa non funziona il turbo strano è solo non ce l'ha neanche a dovevo scendere no 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 aiuto 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 ecco pensavo peggio eh dai esso è stato bravo onestamente pensavo di morire in maniera cosa stavolta ma cos'è la cartina ma cos'è la mappa no ma tu dovresti guardare la mappa e dove vado è qua 300 metri ma non c'è niente 400 metri eh sarà lì sopra scusa eh sarà sotto magari no scendi normalmente che la macchina fa già un fumo strano no 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 normalmente normalmente cosa abbiamo trovato cos'è io so che si cos'è sto coso il quartiere lucivosse io scendo le cose importantissime abbiamo trovato bello finito ecco cos'è la porta ecco ecco dove ci portava al quartiere luci rosse non si può entrare non è che dobbiamo entrare in questa simulazione si si dobbiamo ma volevo vedere prima se ci faceva entrare in qualche culeria niente non ci fa entrare da nessuna parte peccato peccato tutte queste poppe al vento peccato going down on the farm musical ma perché hai fatto crashare il gioco non l'ho fatto crescere c'erano al quartiere delle prostitute siamo al quartiere delle prostitute esatto io non so ma io migliore me ne andrei il prima possibile perché non vorrei che qualcuno ci scambiasse per una operante sai che ci chiede le tasse no e ci chiede magari qualche orifizio che io non ho voglia di di fornire entrò nella simulazione bene qui adesso dobbiamo andare a parlare con simpatico metto giusto esatto sempre che tu non faccia crashare ancora il gioco emozionato da una tetta esatto dove sei? si stava correndo dietro mamma mia ho creato un semplice programma di localizzazione che potrà esserti utile volevo avvisarti che abbiamo il seguccio il segugio di collezionabili corteggio matte intanto che tu ah bravo e quindi possiamo vedere dove tu mi stai dicendo che possiamo vedere dove sono i collezionabili probabile e dunque direi andare tu che cazzo di varco sei andato non lo so te lo sto dicendo che ho paura eccoti qua ok arrivo dunque ho fatto un po di shocking mentre tu eri perso con i tuoi potenziamenti io però anche tu vedo che sei bello io non ho comprato niente io sembro arrivare direttamente da fallout 4 ma di brutto eh guarda ma si sinceramente gli alieni appena mi vedranno secondo me risponderanno così sei un demento andiamo va cominciamo con rubare una macchina a queste due giovani fanciulle ahia perché ci sparano? perché gli hai rubato la macchina? sono sceso! ma come sei sceso? ero sopra la macchina che stavo cercando ah quella che c'è la macchina non sei te è quella la tizia ahahahah ma te con che cavolo stai andando via in macchina? guarda che è sequestro è sequestro di persona quello eh scusa ahia 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 che male ti sta bene perché tu ti sei lanciato per venirmi addosso no no non è vero no assolutamente no ti sei accorto che questa zona non è colorata del nostro pregevole color viola? si l'ho notato che non abbiamo i nostri colori pregevole oh mamma mia cazzo nos un quarto di milione night for speed ma tu dov'è che sei finito? ah perché tu non sei in macchina? e no che non sono in macchina? sono esploso ma porca troia sono attuato avanti sono qua ah eccoti lì nooo la portiera il cofano non c'è più niente salta su ma che parcheggio? siamo arrivati? no Io cracco, tu paramilculo No, io non mi avvicino neanche Io cracco, tu paramilculo Tu bastianice Stavo per dire io barbieri Mi ha anticipato, porca miseria Che delusione Tu cracca, tanto non c'è nessuno qua Quindi possiamo entrare Che negozio è questo? Deve essere un negozio di vestiti Credo Negozio di abbigliamento, c'è che mi cambio Io sono vestito Se così si può dire Pensi di raggiungermi sulla torre Stai saltando te quindi Eh si sai E' proprio quella bella cosa Che mi piace molto fare Ero lì, mi annoiavo mentre tu facevi shopping Perché a me lo shopping mi annoia In una maniera assurda Sei banale Sei banale C'è lo mutandino e lo sacchiotto Ehi Mutandino e lo sacchiotto Guarda Che bello che sono Sono una mortadella umana Ai ya ya Va bene che brutto No Secondo me è il caso di chiudere qua il video E salutare tutti quanti Cioè adesso che ci siamo vestiti Ai ya E' così che saluti la gente Eh si perché così nel prossimo video iniziamo Che siamo già belli che vestiti Siamo già belli che morti C'ho un cappello nuovo io Non so se vedi No Diciamo che il cappello è l'ultima Un po' come Kim Basinger Di 9 settimane e mezzo Il cappello è l'ultima cosa che noti Se moriamo in due Sai cosa succede Sì Quindi Piantala di Ammazzata Che non è bello Quello che stai facendo Va bene Salutiamo tutti Mi raccomando Spolliciate se vi è piaciuto il video Spolliciate se non vi è piaciuto il video Spolliciate se volete Che faccia così Al buon tempo Insomma Spolliciate sempre Ma che se è finito Direi che prima di morire Forse è il caso davvero Di salutarvi tutti Quindi Alla prossima Appuntamento Adesso moriremo tutti E moriremo male C'è proprio un copione Stronzo Siamo risaliti Perché c'è qualcosa che non va Porca 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 Sì Porca Signorina Accosti per favore L'esame è andato leggermente male Non volevo dirlo Ciò andato leggermente male